Ormai le donazioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri all'ospedale Castelli, in particolare alla pediatria, sono un appuntamento fisso? Sì, diciamo che i ragazzi dell'ANCI, dell'Associazione Nazionale Carabinieri, si prodigano sempre per questo tipo di attività benefiche, soprattutto in continuazione della memoria del Cavaliere Mario Ceti, scomparso due anni fa, il quale era particolarmente attento a questo tipo di attività, ci teneva particolarmente e quindi giustamente i colleghi hanno preso in mano l'eredità e hanno portato avanti il suo spirito con questo tipo di gesti che sono sempre apprezzati chiaramente e per i quali veramente l'Arma dei Carabinieri dà assoluto merito e applauso ai ragazzi dell'Associazione. Un gesto che renderà più lieto il Natale dei bambini che purtroppo saranno in ospedale? Un gesto di donazione verso i bambini con sempre qualcosa di utile per gli operatori, per l'assistenza. Quest'anno ci hanno portato delle bilance di precisione che sono degli strumenti semplici ma molto importanti per la gestione dei bambini piccoli, neonati e che naturalmente devono essere di qualità e precisione perché si tratta di strumentazioni mediche molto delicate. Ne avevamo bisogno, siamo riconoscenti come sempre e noi come abbiamo detto pensiamo che anche per i bimbi la presenza di queste persone che rappresentano questo impegno sociale, professionale così importante per la nostra collettività sia un esempio da continuare a coltivare perché vale la pena che venga seguito. Grazie 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 Grazie